Adesso siamo con Marco Maritati della Trevigliese, allora Marco come vedi questa gara? Da fuori non è sembrata proprio la più bella gara del campionato di eccellenza? No, sicuramente non è stata una bellissima partita, però dai, sto sommato è andata anche bene. È una squadra comunque rinomata, come il Palazzolo e tutto. Il primo tempo è stato, a mio parere, equilibrato con qualche occasione da parte loro, però secondo il tempo un pochino più noi e potevamo anche fare gol. Però vabbè dai, tutto sommato meglio così, andiamo avanti e speriamo, speriamo di continuare così che la salvezza arrivi prima possibile. Per arrivare a fare gol invece, secondo te, cosa è mancato? Cosa è mancato? Anche loro comunque è una buona squadra, anche di dietro sono messi bene, anche in mezzo al campo. Gol è mancato, dai, dai. Cioè, invece per quel che riguarda la difesa avete concesso pochissimo loro, questo fa merito a voi? Sì, sì, bene, bene, che è importante, sicuramente prima non prendere gol, però dai, va bene così, un punto buono contro un'ottima squadra. Peccato perché in casa adesso arriviamo da un buon periodo, però dai, andiamo avanti e adesso pensiamo a Sbio Desenzano. Come la vedi? C'è la sferta di domenica? È difficile, è difficile. Loro arrivano non da un bellissimo periodo, però dobbiamo crederci, hanno due punti, la classifica è cortissima. Andare avanti con questa mentalità sicuramente porta risultati.